Dottor Desideri, quali sono secondo lei le opportunità che offre per un'azienda il Project Finance? Il Project Finance ha un aspetto molto ampio di opportunità, principalmente la gestione di progetti complessi che obbligano tutta la filiera degli attori a lavorare per ottimizzare tutte le parti necessarie per portare a compimento l'obiettivo. Ovvero progettisti che devono progettare bene, un'amministrazione che deve risolvere tutte le probabilità del territorio, l'impresa che deve costruire nel miglior modo possibile perché poi sarà comunque responsabile della gestione e quindi dovrà avere un prodotto fatto al meglio per avere minori costi di gestione e tutto quello che ne consegue. Grazie.